Inaugurata a Roma la nuova illuminazione artistica della torretta Valadie di Ponte Milvio. Stile neoclassico dei primi anni dell'Ottocento, la torretta è stata illuminata da 16 nuovi proiettori a LED posizionati in punti scelti appositamente per esaltare i contorni alla forma della struttura. Questa sera illuminiamo con una nuova illuminazione di modo tale che la torretta possa risplendere in tutta la sua bellezza anche durante gli orari notturni. Per questo dobbiamo ringraziare Areti del gruppo Acea che sta lavorando con noi non solo per riqualificare completamente tutta l'illuminazione pubblica di Roma Capitale ma anche perché stiamo facendo un bel lavoro di rigenerazione luminosa dei nostri monumenti. Ci sono angoli di Roma fantastici e noi stiamo cercando man mano di valorizzare ovviamente a partire dai monumenti più famosi, stiamo cercando di valorizzare anche tutti quei piccoli angoli nascosti di Roma che però rendono la città eterna un posto meraviglioso da visitare. Abbiamo cercato di valorizzare al massimo i tre livelli della torretta e soprattutto è da notare che la parte più interessante è l'illuminazione della bandiera che anche in condizioni di poca luce dovrebbe garantire quel neutro che dà visibilità maggiore ai tre colori della bandiera italiana.